se vi dovessero servire dei manuali scrivetemi prima instagram whatsapp eccetera perché pare pare che abbiamo trovato lunedì scorso nella live una ditta abbastanza affidabile per quanto riguarda la produzione di manuali perché scritta da pischelli nati dopo il 1990 quindi mi iscrivete così vi faccio vedere anche uno sconticino e vi accattate manuali ciao regà buono studio